Dal Bertolucci 1 al Bertolucci 2 la domanda è se Mirko negli anni prossimi riuscirà a continuare il discorso da allenatore sviluppato nelle stagioni scorse dal fratello Maggiore, quell'Alessandro che è riuscito a portare l'occhio Sarzana dove mai era arrivato prima. Nel frattempo, posto che la risposta va agli anni a venire, a cominciare dalla stagione entrante, il presidente Maurizio Corona ha presentato in pieno centro sarzanese in piazza De Andrè la versione 2021 e 2022 della prima squadra rossonera e del suo settore giovanile. L'obiettivo è quello di confermarsi nei primissimi posti in serie A1 e continuare a brillare sulla stessa scena europea. Non poteva mancare all'occasione il sindaco Cristina Ponzanelli insieme all'assessore Barbara Campi. Riparte la stagione 2021-2022, anzi è già ripartita, siamo alla presentazione in piazza De Andrè, un appuntamento per Sarzana importantissimo. Siamo nella città, noi vogliamo oggi far vedere alla città che Sarzana è parte integrante, la testimonial di questa città, la serie A1, la serie A2, tutto il settore giovanile, insomma anni e anni di lavoro e noi siamo pronti, siamo Sarzana come diciamo, siamo questa città e rappresentiamo questa città.